La macchina che ha già intrapreso il proprio cammino per portare i cavalli al punto di stacco. 6 alla via, distanza quella del Miglio, con Zurico, Zipac e Zotarbara a giocarsi il ruolo di favorito. 200 al lancio. Si ritrae Zarina di Roberto, la macchina che va per lasciare i concorrenti. Veloce, Zotarbara allo stacco che si porta al comando nei confronti di Zafferano Jet che ha di fuori Zipac. Zipac che va su Zotarbara, poi la terza posizione della corda è per Zarkavans con Zipac che spinge su Zotarbara. Zotarbara quando si va al completamento della piegata e passa Zipac con 400 veloci in 28.3. Zipac al comando su Zotarbar, Zafferano Jet, Zarkavans, poi più indietro il numero 5 Zurico DBS che ha preso la via del largo. I 600 in 43, andatura piuttosto sollecita quella imposta da Zipac quando siamo adesso sulla piegata di destra con il plotone in fila indiana interrotto solamente da Zuligo DBS che viaggia per linee esterne. 59.3 per il paletto di metagara con un 15.5 di frazione, intanto c'è l'errore per Zuligo DBS, il chilometro che Zipac percorre in 1.14.5 nei confronti di Zotarbar, poi Zafferano. Ora si scopre Zarkavans che va a largo quando si va ad affrontare la piegata conclusiva con Zipac ancora al comando nei confronti di Zotarbar, poi Zarkavans a largo di Zafferano Jet, più indietro Zalina di Roberto, la dirittura d'arrivo. Zipac all'affronta al comando nei confronti di Zotarbar, più indietro Zarkavans, Zotarbar che ora va su Zipac e prova ad impensierirlo quando siamo agli ultimi 150 anni. di gara con Zipac che replica Zotarbar, poi più indietro si fa vedere Zalina di Roberto, ma è Zipac che nel finale viene a concludere nei confronti di Zotarbar e Zalina di Roberto. 1.58.6 per Zipac, Luigi Cozzo alla guida, Domenico Minopoli al training, doppio da allenatore per Domenico Minopoli, colori la signora Giovanna Stagliano. il medial chilometro che recita un robusto 1.14 per Zipac che una volta sfondato su Zotarbar ha condotto al comando e non ha messo repliche. 6 al primo posto, il 7 di Zotarbar al secondo e il numero 1 di Zalina di Roberto al terzo. Grazie. 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 Grazie.